Passerei la parola a questo punto all'altra istituzione che presidia il territorio che ci ospita oggi, la città metropolitana di Torino. Lo farai dando la parola al consigliere delegato della pianificazione territoriale e difesa del suolo, trasporti e protezione civile della città metropolitana, dottor Mario Mazza. Funziona, perfetto. Buongiorno, io mi sono insediato ancora dopo, Chiara, ed ho ricevuto le deleghe analoghe alle sue che riguardano la rimanente parte della città metropolitana di Torino. Ma noi abbiamo funzioni più programmatiche, però alcune e lo facciamo e lo faremo in modo sinergico, in particolar modo con la città di Torino, ovviamente. Il piano urbano della mobilità sostenibile di città metropolitana è stato adottato a giugno del 2021. Contiamo di approvarlo in modo definitivo entro fine anno e con esso approveremo i tre piani di settore, cioè i Biciplan, il piano dell'accessibilità e dell'intermodalità e il piano della logistica. Abbiamo ricevuto già alcuni finanziamenti per effettuare degli studi su quelle che sono criticità storiche. Parliamo del prolungamento della linea tramviaria 4 fino a Stupinigi, parliamo delle ciclovie per le quali invece abbiamo già un finanziamento. A breve, la settimana scorsa siamo andati a Moncalieri a discutere con l'amministrazione comunale di Moncalieri, diciamo così che questo progetto ha come centro la città di Torino e va a sviluppare una serie di ciclovie verso tutti gli assi delle città che contornano il nostro capoluogo. Parliamo dell'asse integrato di Corso Mar, parliamo della Pinerolo Torre Pellice, parliamo della Gronda Est, che è una storia infinita, che ha una storia infinita. Il piano urbano della mobilità sostenibile ha quattro macro obiettivi, un obiettivo che è quello di cercare di essere efficace ed efficiente e quindi accessibile anche a tutti coloro che hanno le differenze di genere, a coloro che hanno abilità e disabilità, a coloro che hanno differenze di reddito ed a coloro che hanno anche differenze di età, perché è evidente che vi sono delle esigenze diverse in base a tutte queste categorie di cose. Altra è la sostenibilità ambientale ed energetica, che è oggetto di ragionamenti di questa mattinata e sulla quale non mi soffermo. La sostenibilità sociale ed economica è ovviamente la sicurezza, che è una problematica non di poco conto. Abbiamo delle linee strategiche prioritarie, che sono gli interventi sulla domanda di mobilità, che è una cosa molto importante e che cercherà anche in qualche maniera, l'ho accennato prima Chiara, che andrà anche un po' a cambiare degli stili di vita. Se vogliamo lasciare soprattutto un mondo migliore ai nostri figli e al nostro futuro, avremo, dicevo prima, le piste ciclopedonali, faremo interventi per migliorare il trasporto pubblico collettivo. Noi stiamo già facendo, Città Metropolitana ha già messo in atto alcune cose, alcune iniziative, soprattutto nei territori a domanda debole, dove spendiamo anche tante risorse e la domanda, lo dicevo prima, è debole. Quindi bisogna trovare delle soluzioni che vadano ad ottimizzare anche le risorse economiche. E ovviamente anche sulla mobilità individuale bisognerà effettuare alcuni interventi e poi l'innovazione tecnologica, che sarà alla base di tutti gli interventi. Guardi, io dico due cose. Una l'ho già detta, abbiamo iniziato, abbiamo un po' dei soldi, delle risorse per le piste ciclabili. Quindi stiamo lavorando e inizieremo a realizzare alcune di queste assi ciclabili. L'altro è il cofinanziamento della flotta di autobus. Come per la città di Torino ci sono dei finanziamenti, così li abbiamo anche noi in Città Metropolitana. Stiamo per preparare un decreto nei confronti dei comuni circondari della città di Torino. Abbiamo una flotta molto vecchia. Questo tipo di finanziamenti punta a eliminare gli Euro 2 e gli Euro 3 che ancora abbiamo. Chiudo con due dati sugli obiettivi. Se noi riusciamo tutti a realizzare quello che è previsto in questo piano, per la fine del piano, quindi per il 2030, avremo un 57% circa di passeggeri in più sul trasporto pubblico locale, avremo circa un meno 13% di percorrenze delle auto e quindi anche tempi di viaggio più contingentati, circa un 15% e all'incirca un 30% di emissioni in meno. Ecco, questo è in sintesi quello che stiamo cercando di fare. Grazie. Grazie mille. Mi sento di aggiungere un argomento che ha citato giustamente il PUMS, che quest'oggi non è stato tanto citato. Sottolineo, io lavoro prevalentemente con i finanziamenti europei, abbiamo portato a casa anche un finanziamento per la regione del Piemonte proprio un paio di anni fa sul collegamento Torino-Ceres e uno degli elementi su cui la Commissione sta, siccome era finanziato nell'ambito della logica dei nodi urbani, i nodi core urbani, anche Torino è un nodo core urbano, la Commissione adesso sostanzialmente richiede necessariamente l'adozione del PUMS per poter richiedere il finanziamento. Quindi è una condizione sine qua non ed è una cosa che pian pianino sta entrando. Ovviamente adesso qui siamo nella presenza di un ente, di una città abbastanza grande, ma comincia ad entrare nella testa anche delle cittadine un po' più limitate in termini di popolazione ed è fondamentale questo perché questo contribuisce poi a... Stiamo lavorando anche su quello, verso l'aeroporto, che è una cosa essenziale, che è un elemento essenziale per lo sviluppo di Torino e di tutta la città metropolitana. Anche come nodo internazionale a tutti gli effetti.